Ben ritrovati. C'era un sacco di gente stamattina alla fiera per vaccinarsi. Un bel segno. Il problema è che c'era troppa gente, nel senso che, come al solito, non abbiamo organizzato bene le cose. Troppa gente per il numero di vaccini che si aveva a disposizione. Infatti, ad un certo punto si è sparsa la voce che non c'erano più i vaccini ed è cominciato, diciamo, un po' di malumore. Poi i servizi di telebari li avrete visti, quindi non vi dico niente di nuovo. La faccenda è questa. È sempre più chiaro che ai guai nazionali ed europei della mancanza di vaccino si aggiunge la nostra, diciamo, la nostra mancata competenza per organizzare queste file per vaccinarsi. Non è carino, non è bello vedere persone che hanno, insomma, più o meno 80 anni per tre ore in fila per avere il vaccino. È quello che è accaduto alla fiera stamattina. E si è sparsa la voce anche di, facevano, si facevano battute, ma credo che si facciano battute in tutta Italia a questo punto, perché non ce ne andiamo in Serbia a vaccinarci? D'altronde anche questo sapete perché se ne sta parlando da settimane. Allora vi racconto quello che accade a Belgrado, quindi non a Parigi o a Berlino o a Londra, per carità, senza offesa per Belgrado, ma sicuramente non è la prima capitale mitteleuropea che ci viene in mente. Bene, a Belgrado lì ci sono intanto tutti i vaccini di questo mondo, ci si scrive anche gli stranieri e almeno 500 italiani già sono in coda, si sceglie il vaccino e dopo alcuni giorni si è chiamati per essere vaccinati. Conclusione, al momento quasi il 30% della popolazione dei serbi esclusi gli stranieri sono stati vaccinati con la prima dose. Sono il secondo paese in Europa, perché lo sapete il primo è la Gran Bretagna che ha vaccinato quasi il 50% della popolazione, sempre con la prima dose. Noi in Italia siamo ancora al 17% o giù di lì, quindi è un problema europeo, nel senso che le stesse cifre le trovate a Parigi, a Berlino, in Spagna. È un flop europeo e fa molto male dirlo. Ora la questione è questa, c'è un grande problema di vaccini, a questo però non avrei aggiunto la nostra disorganizzazione. Ecco, già c'è questo problema, se si poteva, se si può evitare di fare brutte figure almeno a livello delle code, ecco, abbiamo fatto un grande passo avanti. Ci vediamo domani.